Salve a tutti ragazzi, sono sempre il vostro Vincenzo, sono stati ragazzi, siamo su Roblox Brokhaven. Ragazzi, quest'oggi vi dovrei parlare di una cosa, ovvero ragazzi, che avete presente dove ci sono i luoghi disabitati, dove non c'è nessuno? Su Brokhaven ragazzi, forse forse gira una strana creatura, ovvero ragazzi, che non è come la immaginavo io, ma l'unica cosa che ho visto l'altra volta è che aveva tipo degli occhi rossi, ecco. E' tipo una creatura ragazzi, questa nuova leggenda di Roblox, che si aggira nelle zone disabitate, ovvero dove non ci va mai nessuno, per attaccare i giocatori, ecco, le persone. Purtroppo ragazzi, non si vede, perché nella scorsa volta ragazzi, non lo so che cosa ho visto, ma qualcosa si è visto, ma davvero deve essere una creatura abbastanza grande. Ragazzi, questa creatura, secondo me, è una creatura abbastanza pericolosa, perché si aggira, ecco, e si aggira di notte per cacciare i giocatori, ecco. Proprio per attaccarli, per aggredirli. Questa creatura può... non lo so, però... vediamo un po'. L'unica cosa che so è che ha due occhi rossi, ha gli occhi rossi, almeno da quello che ho visto. Un occhio rosso l'ho visto che aveva. Quindi ragazzi, mi raccomando, attenzione. Là ragazzi dove l'ho vista, però adesso non c'è più. Prima ragazzi, non lo so raga. Attenzione ragazzi che può esistere veramente, può esistere. Quindi non lo so che tipo di creatura sia, però aveva tipo come una pelle nera tipo. Non lo so raga, non lo so. Vanno subito io che giro pure da solo qua. Non lo so raga. Ditemi voi ragazzi se... Non lo so. E' una strana creatura ragazzi questa, veramente. Vabbè, ragazzi. Ci siamo prossimi sui Roblox.